E' vero, siamo su Montagna Biellese e quindi non ci aspettiamo di vedere una camperizzazione ma molte persone mi hanno chiesto di saperne di più e quindi ho pensato che potesse essere utile. Ho comprato questo mezzo che è un Transporter T6 del 2017, l'ho comprato ovviamente usato con 200.000 km però devo dire che veramente per ora sono davvero soddisfatta e agilissimo al cambio automatico e un 2000 di cilindrata e quindi del mezzo a livello meccanico sono veramente molto contenta, d'altronde non avrei potuto permettermi qualcosa di più nuovo e di meno usato soprattutto. Ho montato il portabici, diciamo che partiamo un po' dalla fine ho montato il portabici, è tool molto comodo e parto col farvi vedere la camperizzazione finita poi a fine video vedremo dei lavori effettuati. Qua diciamo che c'è un po' quello che è il bagagliaio quindi ho delle scatole dove teniamo la roba d'arrampicata, quindi caschi, corde, rimbi, zaini eccetera eccetera abbiamo delle scatole molto capienti e c'è anche questo gavone laterale in cui ci stanno cose eventualmente più lunghe cose che non ci starebbero nelle scatole. Con questo piccolo assetto vado a fermare il tutto in modo che non si muova in viaggio e quindi questo diciamo che è ciò che si vede dal retro aprendo il baule. Entriamo e vediamo che diciamo che la mia camperizzazione è stata pensata, mi sono fatta il progetto su SketchUp ed è stata pensata per dare più spazio possibile al letto, dopo ne parleremo. piccola cucinetta con lavandino, il lavandino e la relativa pompa è collegata alla Bluetti che vedete dopo che è una batteria, taniche, carico e scarico, sono da 12 litri quindi diciamo che sono abbastanza sufficienti, chiaro non possiamo fare una doccia ma per lavare le cose sono molto utili. Frigo nel cassetto centrale raffredda molto molto bene anche quando va a 12 volt, può essere collegato a 12 o a 220 alla 220 e quindi è molto comodo e molto prestante anche a 12 volt mi ha stupito. Cassetto in cui ci sono posate, spezie, piccole accessori e infine la porticina dove è presente in alto delle scatoline in cui riporre i piatti, le stoviglie, ciò che ci serve, la presa a cui è collegato il cavo quando ci attacchiamo alla corrente, il portacalici di cui sono un sacco orgogliosa per avere i calici di vetro e la Bluetti, ecco lei è la batteria, batteria da 700 watt se non ricordo male e non è collegata al resto dell'impianto ma ha un'autonomia, diciamo che quando va a alimentare il frigo ha un'autonomia molto molto elevata, diciamo che mi dura praticamente tre giorni anche quando fa abbastanza caldo. Qua ecco state vedendo delle scatole, la prima è semi vuota perché non avevo ancora i vestiti dentro, di solito quella in cui tengo i vestiti e in questa seconda scatola un po' più scomoda da raggiungere ci sono i cunei, l'acqua di riserva eccetera eccetera, tutto ciò che posso dire ma che si usa un po' meno. Altra scatola in cui vabbè adesso vedete dentro anche la pattumierina che poi di solito tiro fuori quando sono ferma e dentro possono esserci vari oggetti o a volte tengo il cibo secco. Gavone laterale in cui ci stanno molto comodamente le sedie e l'ho fatto apposta di questa lunghezza in modo che ci stiano le sedie, ovviamente quello sul passaruota. Gavone laterale anche da questa parte dove in questo momento era vuoto ma ci stanno comodamente anche qui diverse cose. Le griglie che vedete sotto sono perché è presente l'aria condizionata anche nella parte dietro nonostante il furgone sia omologato autocarro. Ovviamente quindi essendo autocarro è tutto amovibile senza l'utilizzo di un attrezzo. Quindi a mano, svitando a mano. Dietro altri gavoni, in questo gavone generalmente tengo il fornelletto e il fornelletto è molto comodo quando mi fermo utilizzare questo tavolino che ho fatto apribile in modo che quando cucino posso cucinare, diciamo, se c'è bel tempo, fuori senza far andare i vapore all'interno. Ovviamente se facesse brutto tempo si sta dentro, il fornello lo si mette dentro. È il classico fornello camping gas che hanno tutti. È molto comodo. Dopodiché anche quando richiudo il tavolino rimane dietro il portellone, non dà alcun fastidio viaggiando, non si muove. Queste due staffe le ho comprate su internet. Ecco, molto del materiale che ho utilizzato, che vedete, l'ho comprato su internet. Non è così facile trovarli, specialmente in città piccole. Qua è il sistema del letto, quindi da panca, ribaltando lo schienale, diciamo, lo schienale diventano le gambe e quindi si ribalta il tutto e diventa letto. È un letto, vi dicevo, molto grande, cioè nel senso che il letto aperto, adesso come lo vedrete poi aperto, è 140, quindi una piazza e mezza. Volevo che dare priorità al letto. Generalmente, se qualcuno ha già visto altre camperizzazioni, di solito la cucina dalle aziende è messa lateralmente e quindi non dietro i sedili come la vedete. In realtà al metterla lateralmente mi avrebbe sacrificato moltissimo lo spazio del letto, cosa che io non volevo perché volevo avere un letto comodo, ecco. Quindi ho preferito dare priorità al letto e quindi mettere la cucina sacrificando un po', diciamo, quello che è il passaggio da davanti a dietro. In realtà è molto comodo lo stesso passare da davanti a dietro, però vedete che la grandezza del letto risulta piuttosto grande e quindi molto comoda per dormirci anche in due persone. Ovviamente, vabbè, tutti i giorni si tira sul letto, però in realtà l'abbiamo già usato diverse volte e mi sembra una soluzione comunque molto pratica alla fine. Quindi si spostano banalmente i cuscini. Questo è un materasso che ho preso su Amazon, è un materasso di schiuma che poi abbiamo tagliato e con l'aiuto di mia mamma, che io sono più un uomo che una donna, quindi ho fatto la falegnameria, tutto ciò che era, diciamo, quei lavori un po' da uomo e in realtà però mia mamma, che è bravissima a cucire, mi ha cucito le fodere e io invece sono un disastro con la macchina da cucire, non so neanche da che parte iniziare. Quindi questo è il sistema di nuovo per farlo ritornare a versione giorno, diciamo, e quindi diventa la panca e tutto viene, diciamo, molto comodo anche di giorno quando piove, ci si può sedere all'interno, leggere, mangiare, quindi risulta veramente comodissimo. Qualche lavoro, perché in realtà sono partita da quello che vedete qui, non solo, ovviamente c'era tutta la ferramenta, ma appena ho comprato il furgone mi sono fermata dall'Erwa Merleng a Milano e ho comprato i pannelli che poi con un sacco di pazienza e praticamente un paio di mesi di lavoro tra una cosa e l'altra, ovviamente conciliandola col lavoro mio, a scuola sono andata a camperizzarmi il furgone e quindi prendendo le misure è molto complesso perché come vedete anche questo taglio sono tutte curve, un'autovettura in generale all'interno è tutta una curva ed è stato non così facile prendere le dime e quindi riuscire a camperizzare il tutto. Questa è la prima bozza di quello che stava avvenendo, poi successivamente ho forato queste parti per creare un alleggerimento perché altrimenti tutta la camperizzazione è fatta tutta con pannelli pieni, è compensato, è compensato marino da un centimetro e mezzo e sarebbe stata veramente molto pesante, quindi con questo alleggerimento ho praticamente alleggerito circa del 30% tutta la struttura e qua c'erano le prove di montaggio perché poi ogni volta chiaramente dovevo provare. Qua iniziavo la costruzione della cucina, devo dire che la costruzione della cucina è stata abbastanza difficile perché gli spazi sono resicati, il frigo è piuttosto grosso e tutto doveva starci, quindi non nego che ho avuto anche dei momenti di sconforto ma poi per fortuna mi sono ripresa perché alcune cose poi non funzionavano, ho dovuto modificarle e quindi insomma questa era la configurazione che avevo pensato e in effetti poi alla fine sono riuscita a realizzarlo, quindi bluetti a sinistra, frigo e taniche con lavandino eccetera eccetera. Non ho i video di quando ho fatto i fori e il montaggio di questi pomelli, sono quei pomelli a scatto che avete visto prima perché era proprio quello il momento di sconforto totale, ho comprato questi pomelli che non avevano le quote quindi è stato veramente un delirio farli combaciare con le cantine, riuscire a capire le distanze e i fori, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Infine ho grattato tutto quello che era il legno grezzo, è stato un lavoro lunghissimo, specialmente tutti quei fori, ho dato la prima mano di vernice, mano di colore, in realtà le mani sono due ma tra una mano e l'altra di colore ho dovuto nuovamente grattare come vedete appunto qua, quindi ho grattato anche la seconda mano, poi infine ho dato sopra una finitura trasparente, una finitura molto prestante con il suo costo però, volevo che fosse una cosa che mi durasse nel tempo con tutta la fatica fatta. E quindi ultime prove di montaggio, ho inserito del feltro nelle parti che vedete contro la carrozzeria in modo che così non si rovini. E questo è il mio mezzo, è stato veramente faticoso ma sono un sacco, un sacco contenta, è venuto molto bene e devo dire che davvero risponde proprio alle mie esigenze, quindi pronti per partire. In descrizione trovate qualche link del materiale che ho acquistato e se avete domande scrivetemi pure nei commenti. Ciao a tutti e buone arrampicate!